buonasera buonasera facile a dirsi buonasera facciamo meglio va ben ritrovate ben ritrovati amici lo sapevo lo sapevo che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe provato a negare l'evidenza e avrebbe fatto quello che i professoroni qualche politico straniero come macron o come la merkel o qualche solone italiano si aspettava liberare quella povera donna che ha solo provato ad ammazzare cinque militari italiani non ho parole non ho parole cosa bisogna fare per finire in galera in italia cosa bisogna fare per finire in galera in italia mi vergogno di chi permette che in questo paese arrivi il primo delinquente dall'estero e nel nome delle sue idee politiche disubbidisca le leggi e metta a rischio la vita di alcuni militari italiani che stanno facendo il loro lavoro mi sono andato a rileggere le parole di quei finanzieri che quella notte quella notte di pochi giorni fa hanno rischiato di finire schiacciati ammazzati sulla banchina del porto di lampedusa dopo aver detto una due tre volte alt alla nave della sea watch non una una due tre volte fermi fermi vorrei capire questo giudice che ha liberato questa criminale questo punto cosa fa stessa sera una pattuglia dei carabinieri o della polizia intima l'alt a una macchina su una strada italiana a questo punto chiunque è legittimato a tirare dritto anzi non solo a tirare dritto ma a speronare la pattuglia dei carabinieri della polizia pessimo segnale pessimo segnale signor giudice pessimo segnale signor giudice se qualche giudice vuole fare politica l'abbiamo detto siamo in democrazia si toglie la toga si candida in parlamento con la sinistra e cambia le leggi che non gli piacciono non siamo un paese civile se si sovrappongono politica e magistratura magistratura e politica no ripeto in questo caso non c'è stato solo l'ignorare il no all'ingresso nelle acque italiane del ministro salvini del ministro toninelli del ministro trenta non si sono solo ignorate le indicazioni della capitanere di porto della guardia costiera della guardia di finanza no si è deliberatamente rischiato di uccidere cinque ragazzi in divisa italiani che in mare stavano facendo il loro lavoro e cosa si risolve in una pacca sulla spalla magari signor giudice si è bevuta pure un bicchier di vino con la signorina che si è detta ricca bianca tedesca magari un po annoiata e quindi legittimata a fregarsene delle leggi di uno stato e poi ci sentiamo pure fare la morale da qualche politico tedesco da qualche politico francese di quelli che hanno passato giorno e notte per spartirsi le poltrone della prossima commissione europea veramente se qualcuno pensa che io molli ha sbagliato a capire se qualcuno pensa che io mi fermi ha sbagliato a capire ancora oggi pomeriggio ci siamo ritrovati con tutti i tecnici gli esperti al ministero dell'interno per valutare come fermare altre navi complici degli scafisti che anche in queste ore sono in navigazione nel mar mediterraneo basta basta l'abbiamo visto anche oggi perfino stamattina con gli arresti a lodi in lombardia di gente che si diceva onlus cooperativa loro sono buoni accolgono i migranti perché sono generosi perché sono cristiani perché sono accoglienti cazzate perché ci guadagnano un sacco di soldi chi finanzia queste ong chi c'è dietro e ragazzi dai ormai l'abbiamo capito che è un tentativo di cancellare sovranità leggi diritti dignità io non mollo anzi da domani ancora più determinato a far rispettare i confini del nostro paese che sono sono sacri le leggi le regole la civiltà l'onore la dignità il buon senso il buon gusto mi spiace anche perché facciamo questo esercizio per 30 secondi e lo dedico a tutti quelli che hanno parlato in questi giorni ai saviano ai fazio alle gruber alle darie bignardi ai ginostrada agli oliviero toscani a tutti quelli che mi hanno insultato in alcuni casi minacciato ma proviamo a fare signor giudice il caso contrario proviamo a immaginare facciamo questo esercizio per 30 secondi lo faccio con voi che siete dall'altra parte di questo schermo a prescindere dal fatto che votiate lega non votiate lega che io vi stia simpatico io vi stia antipatico oggettivamente proviamo a pensare a una nave italiana di una ong italiana con bandiera italiana in acque tedesche o in acque olandesi che entra nelle acque territoriali tedesche nonostante il no del governo tedesco che ignora una legge tedesca che avanza verso il porto che so di hamburgo o di rotterdam tornando all'olanda disubbidendo al fermo delle autorità tedesche o olandesi poi si ferma per qualche giorno nei pressi del porto e poi una notte staccando la radio senza avvisare nessuno parte dritta e sparata verso il porto e sperona una moto vedetta tedesca con a bordo cinque militari tedeschi che dicono fermi una volta due volte tre volte e che poi grazie a dio riescono a scappare prima di rimanere stritolati da un bestione di 600 tonnellate sulla loro moto vedetta in vetro resina di 12 metri ecco hanno visto la morte da vicino e riescono a scappare coi militari tedeschi in un porto tedesco per difendere i confini tedeschi e la nave italiana se ne fotte di schiaccia scende e poi il capitano di questa nave italiana che ha disubbidito a non so quante leggi decreti regolamenti e poi viene accolta dai tedeschi come un'eroina qualcuno dice batte le mani liberate lo poverino ha solo rischiato di ammazzare cinque militari tedeschi e raccolgono soldi e raccolgono firme sta agli arresti domiciliari giusto due giorni poi trova un giudice tedesco andiamo avanti con questa fiaba pessima horror surreale e il giudice tedesco cosa fa la scarcera ma sì dai cosa vuoi che sia ha solo ignorato una legge tedesca se ne sono fregata di un divieto di tre ministri del governo tedesco ha solo rischiato di ammazzare cinque militari tedeschi anzi magari le diamo pure una medaglia anzi magari le intitoliamo pure una via un porto un giardinetto le diamo un sacco di soldi una pacca sulla spalla e magari la candidiamo in parlamento con la sinistra tedesca o con la sinistra secondo voi come l'avrebbero trattato un delinquente del genere in germania in olanda negli stati uniti in australia in francia la francia che ci dà lezioni il governo macron che ci spiega come dobbiamo aprire i porti ma secondo voi una nave italiana con un equipaggio italiano che rischia di uccidere cinque militari francesi dopo quanti secondi viene affondata e quanti anni di galera si meritano quei criminali in italia no è perché in italia ci sono i buonisti i pacifisti e ci sono anche purtroppo allora ci sono migliaia e migliaia di giudici e magistrati che fanno bene il loro lavoro e sono estranei alle schifezze sul csm di cui stiamo leggendo in questi giorni telefonate pranzi cene viaggi alberghi scambio di procure tu vai qui tu vai là tu vai su tu vai giù tu cugino tuo fratello tuo nipote il tuo amante no la stragrande maggioranza dei giudici magistrati non partecipa a queste schifezze così come non fa politica con le sentenze secondo me quella di stasera è una sentenza che non fa onore all'italia che non fa bene all'italia perché quanti criminali si sentiranno in mare o in terra legittimati a fregarsene delle forze dell'ordine dello stop delle forze dell'ordine delle richieste delle forze dell'ordine se addirittura non vale la galera aver provato a schiacciare ci sono le immagini ragazzi se qualcuno ancora non le ha viste andate a guardarle quelle immagini sono impressionanti questo bestione di 600 tonnellate che piano piano arriva e rischia di stritolare questa micro moto vedetta con cinque uomini a bordo sul porto per salvare vite l'ha fatto perché salvava vite ma ci crediamo ancora queste cazzate questi sono complici dei trafficanti di esseri umani questi fanno politica sulla pelle di quei poveri disgraziati poi ho letto che pare che il giudice abbia detto che non poteva andare in tunisia perché non la riteneva abbastanza sicura in tunisia non c'è la guerra c'è un governo c'è un parlamento c'è una magistratura ci sono dei porti c'è una marina c'è una polizia la gente va la gente viene per lavoro per turismo per studio e però adesso se uno a ong decide no in tunisia non mi va cosa facciamo dove andiamo in costa azzurra andiamo sulla costiera amalfitana ecco magari la prossima nave decide di andare in costiera amalfitana perché sti poveri ragazzi non sono mai stati in costiera amalfitana magari trovano un giudice che gli da pure ragione poverini avevano diritto di andare in costiera amalfitana ma in che pianeta viviamo ma stiamo scherzando quindi permettetemi lo sfogo ma lo faccio a nome di quei militari che hanno rischiato la vita di tutte le donne gli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita e che meritano rispetto non meritano sentenze vergognose che liberano i delinquenti solo per far piacere magari a qualcuno ovviamente come ministero dell'interno tramite il prefetto abbiamo subito dal primo secondo dopo questa sentenza politica e vergognosa dopo questa assoluzione che fa male all'italia ci siamo adoperati per l'accompagnamento coatto della signorina sul primo aereo direzione germania anche qua serve l'autorizzazione di un giudice che ha 48 ore per confermare il nostro diritto che io ritengo assolutamente sacrosanto quantomeno se non sia possibile vedere in galera questa signorina tedesca almeno di rispedirla al suo paese così eventuali altri danni li fa al suo paese e vediamo se almeno questo ci sarà concesso o seppure per qualcuno che amministra la giustizia in italia tutti possono fare tutto anarchia a lei ti fermano i carabinieri ma fregatene tira dritto anzi magari tagliagli pure una gomma fagli il dito medio cosa vuoi che sia non è la giustizia che serve a un paese che vuole crescere non è la giustizia che che sogno di lasciare in eredità i miei figli quanto è urgente la riforma della giustizia quanto è urgente cambiare i criteri di assunzione di selezione di formazione di promozione di chi amministra la giustizia in italia ci stiamo lavorando comunque ragazzi non solo non mi tolgono la voglia di lavorare ma mi danno ancora più forza in questo momento un po di rabbia un po di rabbia e lo leggo anche non riesco a leggerlo perché siete in una marea cioè 30.000 persone collegate simultaneamente in questo istante mentre sulle televisioni sicuramente sulla rai su mediaset su sky sulla 7 staranno facendo delle trasmissioni trionfanti dove ci saranno i politici della sinistra trionfa che bello l'hanno liberata adesso magari la candidiamo al parlamento le diamo il nobel per la pace d'altronde cosa vuoi che sia ha solo rischiato di ammazzare per la sua violenza cinque esseri umani ma lei soccorre lei salva lei è buona gentile generosa e poi siccome tedesca non la si può toccare guai guai non funziona così quindi esultate cari amici della sinistra esultate parlamentare del pd esultate saviano fazio santoro boldrini a lei a lei e intanto noi lavoriamo in silenzio per il bene dell'italia e degli italiani è finito il vostro tempo è finito il business è finita la pacchia è finito il guadagno è finito il lucro sull'immigrazione clandestina continueremo a fermarli uno per uno e vediamo chi ha la testa più dura vediamo chi si stufa prima troveremo un giudice ci sarà un giudice uno in italia che avrà finalmente il coraggio di dire il re è nudo questi non sono soccorritori questi sono complici questi sono potenziali assassini questi sono criminali e criminali vanno in galera in un paese normale chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale chi ignora i regolamenti va in galera in un paese chi attenta alla vita di militari in servizio va in galera in un paese normale confido chi ci sarà presto quel giudice che dirà basta basta in italia si arriva se si ha il permesso e il diritto di arrivare se si scappa dalla guerra si arriva in aereo coi corridoi umanitari come stanno continuando a fare tante donne e tanti bambini quindi brindate cari amici di sinistra esultate fate cortei mettete striscioni fate cartelloni insultate mi tanto ci sono abituato abbiamo visto anche in questi giorni salvini crepa salvini muori salvini infame salvini appeso a testa in giù sparate a salvini ammazzate salvini mi date forza perché se non ho alle spalle qualche professorone o qualche politicante di sinistra penso di avere dalla mia parte milioni e milioni di italiani e di immigrati per bene che vogliono vivere in un paese con delle regole con dei confini con delle leggi che vengono rispettate con un futuro sulle nomine europee non la faccio lunga me al di là dei nomi interessa che cambino le regole in questa europa perché mi son preso l'impegno di ridurre le tasse se non a tutti a tanti dal prossimo anno e lo porteremo fino in fondo e se a bruxelles sono contenti sono contento anch'io e se a bruxelles saranno meno contenti noi faremo lo stesso perché lo stipendio ce lo pagano gli italiani non qualche burocrate dell'unione europea della commissione europea detto questo mi auguro che stanotte quel giudice ripensi a quello che ha scelto e a quello che ha fatto e quello che ha scritto e andando a letto pensi a quei cinque ragazzi alle loro mamme ai loro papà ai loro colleghi ragazzi che hanno rischiato la vita perché qualcuno che si ritiene buono tanto buono non è il posto di quella signorina questa sera serve stato la galera un giudice ha deciso che non sia così che almeno ci permettano di metterla sul primo aereo direzione berlino comunque la cambiamo questa giustizia è un impegno che mi prendo con voi soprattutto per rispetto delle migliaia di donne e uomini con la toga che non fanno politica ma amministrano la giustizia vado a letto un po arrabbiato sì vado a letto indignato sì perché non è una sentenza che fa bene all'italia non è una sentenza che fa onore all'italia e sembra che delinquere sia permesso a tutti a tutti no finché avrò l'onore di essere ministro dell'interno finché avrò l'orgoglio di difendere la sicurezza del mio paese io vado avanti indietro non si torna se voi ci siete io ci sono leggo che in tanti mi state scrivendo salvini non mollare matteo non mollare non ci penso neanche anzi sentenze come queste sentenze che vanno contro l'italia e contro la legge a mio modestissimo avviso come questa mi impongono di lavorare ancora di più e ancora meglio per il mio paese per i miei figli per i vostri figli a cui dono anche la vita se necessario buoni sì fessi no solidali sì complici dei trafficanti di uomini di droga e di armi no grazie 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 e questo paese che è il più bello del mondo noi tutti insieme lo andiamo a salvare alla faccia delle carole che dicono viva la vita e rischiano di portare morte nelle nostre acque anche la salute di qualche giudice che più che alla giustizia pensa alla politica si candidi signor giudice se è bravo come possibile verrà eletto e cambierà le leggi per intanto le chiediamo semplicemente di applicarle non di interpretarle a vantaggio di chissà chi un bacione